San Nicola e i due gemelli tratto da una fiaba canadese tanto tempo fa in un paese lontano c'era una foresta enorme dove abeti e betulle crescevano alti e fitti non c'erano strade che l'attraversavano ed erano in pochi a sapersi orientare in un punto remoto lontano da tutto c'era una casetta di legno con il tetto fatto di pietre e un camino da cui usciva uno sbuffo di fumo aveva piccole finestrelle e un minuscolo giardino lì vivevano due gemelli di nome pierre ed estel insieme ai loro genitori i due bambini si assomigliavano tanto che li distinguevano tra loro grazie ai vestiti che indossavano avevano sempre vissuto nella casetta nella grande foresta lì giocavano a nascondersi tra le piante di agrifoglio e si divertivano a cercare i nidi dei picchi erano poveri ma felici la vita nella grande foresta non era facile per procurarsi da mangiare bisognava lavorare duramente d'estate pierre ed stelle andavano al ruscello che scorreva non lontano dalla loro casetta pescavano grossi pesci argentati e raccoglievano bacche e frutta per i mesi più freddi quando arrivava l'inverno gli alberi diventavano spogli e l'acqua del torrente ghiacciava gli uccelli che in primavera cantavano sui rami volavano via lontano sulla foresta cadeva la neve che rendeva tutto bianco e immobile l'aria diventava così fredda che bastava mettere il naso fuori di casa perché si gelasse la famiglia che viveva nella casetta di legno poteva contare solo sulle previste che aveva messo da parte nei mesi più caldi arrivò un'estate fredda a cui seguì un inverno molto rigido la dispensa della casetta si svuotò rapidamente e rimase ben poco da portare in tavola mamma e papà furono costrette a uscire al freddo in cerca di qualcosa da mangiare dal cielo cadevano grossi fiocchi di neve e soffiava un vento gelido così alla sera papà tossì e la mamma cominciò a starnutire salì loro una gran febbre tanto che furono costretti a tornare a casa per mettersi a letto sotto una coperta di lana siamo malati bambini cari disse roppier ed estel e c'è un solo modo per guarire ci serve un bel brodo di carne caldo e nutriente e come possiamo prepararlo chiese pierre serve un pollo ma qui non c'è nemmeno uno magrolino disse estel preoccupata bisognerà andare in città a comprarne uno spiegò allora la mamma prima di fare un grosso starnuto quella notte i due bambini ne parlarono a lungo distesi nel loro letto non erano mai usciti dalla grande foresta ma questa volta non avevano scelta dovevano trovare gli ingredienti per preparare il brodo decisero che sarebbero partiti la mattina dopo di buon'ora appena spunto il sole infilarono la giacca più pesante che avevano salutarono mamma e papà e si misero in viaggio camminando sulla neve ghiacciata si tenevano per mano osservando le betulle intorno a loro e cantando per sentirsi meno soli infine arrivarono a una casetta circondata di abeti poco distante dal sentiero che stavano seguendo seduto fuori dalla porta c'era un vecchio signore aveva occhi allegri un sorriso gentile e folti capelli bianchi era impegnato a intagliare del legno con un fischietto i bambini si fermarono e lo osservarono ammirati finché l'anziano non sollevò gli occhi e li salutò sorridendo perché costruisci fischietti domandò piero incuriosito li sto preparando per san nicola che tra poco arriverà qui e lui li porterà i bambini più buoni in dono spiegò l'uomo dai capelli bianchi i bambini restarono a bocca aperta non avevano mai conosciuto un aiutante di san nicola l'anziano finì il fischietto poi domando loro che ci facessero nella foresta i nostri genitori hanno l'influenza siamo venuti a cercare gli ingredienti per preparare un brodo caldo io non ho quel che cercate disse l'anziano dispiaciuto poi sollevò la mano verso il sentiero che proseguiva da quella parte però vive un macellaio che ha tutto quel che serve ma state attenti è un uomo pericoloso pierre destelle rabbrividirono di paura stringendosi l'uno all'altra l'anziano allora decise di aiutarli poiché siete due bambini generosi vi darò un fischietto a testa suonatelo solo se vi troverete in pericolo san nicola lo sentirà e correrà in vostro aiuto disse porgendo a ciascuno dei due i suoi fischietti pierre destelle ripresero allora il cammino sentendosi al sicuro grazie ai fischietti che avevano in tasca ma mentre avanzavano il cielo si faceva scuro e sentivano la paura a crescere nei loro cuori quando non mancava molto alla casa del macellaio estel si fermò e se il vecchio signore ci avesse dato solo due normali fischietti che nulla hanno di magico domandò magari l'anziano è un amico del macellaio e ci ha raccontato la storia di san nicola per attirarci da lui spaventati i bambini decisero di cercare la carne altrove girarono per la foresta e camminarono a lungo senza trovare nulla attraversarono un piccolo villaggio ma nessuno poteva aiutarli era ormai sera e loro non avevano quel che serviva per guarire mamma e papà stanchi e infreddoliti in lontananza videro brillare le luci di una casetta si vedeva un fuocherello scoppiettante nel camino grosse salsicce appese al soffitto e una torta appoggiata sul tavolo era la casa del macellaio pierre destelle non vedevano l'ora di trovare gli ingredienti per il brodo e di tornare dai genitori così decisero di bussare di comprare ciò che serviva e di andarsene prima possibile prima però soffiamo nel fischietto per avvisare san nicola che abbiamo paura propose pierre così fecero nascosti all'ombra degli abeti davanti alla macelleria maestelle fu più lenta del fratello perché il suo fischietto restò incastrato nella tasca della giacca così invece di un fischio potente si sentirono due fischi tenui uno dopo l'altro quando nella foresta tornò il silenzio i due bambini bussarono alla porta della macelleria il macellaio li accolse con grande gentilezza sorridendo li invitò a sedere davanti al fuoco e offrì loro da mangiare non temete vi darò tutto quello che vi serve per preparare un buon brodo disse in verità il macellaio era davvero un uomo crudele era grande amico di un gigante cattivo che viveva nella foresta e rapiva i bambini poiché nessun bambino si sarebbe mai avvicinato al gigante questi si nascondeva in una grotta e aspettava che il macellaio gli portasse i piccoli in cambio il gigante andava a caccia e gli portava le salsicce da vendere nella macelleria ora l'uomo guardava i bambini seduti davanti al suo caminetto e già immaginava quanti soldi avrebbe guadagnato vendendo le salsicce che gli avrebbe dato in cambio il gigante quando pierre ed estelles furono scaldati per bene aprì la porticina che conduceva al retro del negozio qui tengo il cibo migliore spiegò entrate e scegliete quel che preferite la stanzietta era piena di barattoli di cipolle salsicce e salami sacchi di patate e rape i bambini entrarono pensando al buon prodo che avrebbero potuto preparare ma quando furono dentro il macellaio chiuse la porta alle loro spalle e li imprigionò i bambini urlarono e si disperarono ma il macellaio era già fuori dal suo negozio perché aveva sentito i passi del gigante che arrivava portando in spalla un sacco pieno di salsicce hai qualcosa per me chiese al macellaio due bei bambini chiusi nella mia dispensa rispose quello il gigante ne fu molto felice così volle sedersi davanti al fuoco con l'amico per festeggiare mangiando e bevendo fino a notte fonda mentre i due festeggiavano san nicola era impegnato a consegnare i doni ai bambini aveva sentito il suono del fischietto di pierre portato dal vento poi aveva udito anche quello di estel poiché erano entrambi deboli aveva pensato che non ci fosse troppa fretta finito di consegnare i doni ai bambini nei villaggi più a sud san nicola si mise in viaggio verso pierre d'estel arrivò alla casa del macellaio ed entrò il gigante e il suo amico stavano sbirciando dentro la dispensa e chiusero subito la porta appena sentirono il rumore di passi alle loro spalle san nicola capì subito che stava accadendo qualcosa di brutto vorrei una delle salsicce che ho visto nella distanza disse la carne migliore la tengo nel retro della bottega disse il macellaio portando san nicola in una stanzetta dove c'era un grosso baule contenente una piccola salsiccia prendo quella disse san nicola e quando il macellaio si chinò per prenderla lui lo spinse dentro e poi chiuse il coperchio imprigionandolo poi tornò dal gigante e gli disse indicando l'ultimo ripiano del mobile su cui il macellaio aveva disposto la sua mercanzia con la salsiccia ci sta bene anche un barattolo di cipolle il gigante si alzò per recuperarlo e san nicola lo colpì in testa con un lungo bastone facendolo cadere a terra svenuto poi aprì la porta della dispensa e liberò i bambini che lo abbracciarono felici e riconoscenti riempì una sacca di cose buone da mangiare abbastanza per riempirsi la pancia fino alla primavera seguente e se la caricò sulle spalle attraversarono la foresta innevata e quando arrivarono a casa le stelle brillavano nel cielo pierre e destelle ringraziarono di cuore san nicola poi corsero a preparare il brodo caldo mamma e papà guarirono presto e trascorsero il resto dell'inverno sereni con la dispensa piena e tante cose da mangiare il gigante e il macellaio non osarono mai fare più nulla di cattivo spaventati all'idea che san nicola potesse tornare